Fare il vaccino antinfluenzale tipico invernale quest'anno è davvero una corsa a ostacoli. Oggi, venerdì 20 novembre, secondo le dichiarazioni ufficiali, dovrebbe arrivare in distribuzione una seconda fornitura di vaccini ai medici di famiglia. Anzi, precisiamo meglio, dovrebbero arrivare alle farmacie che poi li distribuiranno ai medici. È facilmente intuibile che qui c'è già un meccanismo che si inceppa, perché come ci ha confermato il segretario del sindacato dei medici di famiglia della provincia di Alessandria, Camillo Milano, per 30 anni circa era stato facilissimo trovare vaccini al distretto sanitario, quindi per dire ad Alessandria, al Patria, e nel giorno del 4 novembre. Con questo metodo la distribuzione ha sempre funzionato. Da due anni invece qualcosa è cambiato. Sono le farmacie che devono passarlo ai medici, ma devono accedere prima ad una piattaforma via internet che è sempre intesata. Non si riesce a prendere la linea alla faccia della modernizzazione. Tra l'altro, le notizie di oggi, la piattaforma dei vaccini sta inviando mail ai medici che hanno già avuto un numero abbastanza alto di vaccini, in cui si informa che chi ha avuto tipo 400 vaccini, come il medico che abbiamo consultato, anche se non sono bastati a coprire i pazienti che ne hanno bisogno, per il momento non ne riceveranno altre quantità. Il sospetto di molti medici è che in realtà non ne riceveranno più, quindi tanti cittadini che per legge ne avrebbero diritto, tipo gli over 60 anni, rimarranno senza. E questo era facilmente immaginabile, anche vista la situazione delle ordinazioni. Una regione come il Piemonte ha acquistato 1.200.000 vaccini, ma ha una popolazione che ne ha diritto che conta 1.600.000 persone. Questo vuol dire che ben 400.000 tra anziani e bambini sotto i 6 anni non lo riceveranno. Nel totale manca il 25% dei vaccini. E non c'è da illudersi, non si può neanche averli a pagamento in farmacia, vista la quantità minima che è stata loro riservata. In conclusione, visto che da questo weekend, con le temperature che si abbassano, entriamo nella vera stagione invernale, il consiglio è difendersi dal freddo, tutti sotto coperta.